Signori all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho firmato quella a Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Prima di ripagli i vetri che hai rotto in officina. Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona tu è buddista, pure tu vuoi che è buddista. Guarda che a me non mi converti. Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che toco la palla io la devo dar via di prima, come faccio a fare non so un dribbling? Pesi solo a testeso, non fai gruppo. Ma forse è te che mi trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se vuoi, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo questa roba. Neanche per scherzo. Più di vent'anni in un pallone. Più di vent'anni da spentare per rigore. Ti ha fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che è la vita. Se devi che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. Allora che vuoi che ti dica che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale per Rob. Ha bisogno di noi. Ha bisogno della sua famiglia. Che siamo contenti? Di cosa? Che giochi con noi. Ancora non ci vediamo. Tutti passano a palla al baggio e te fai i gol. Ora che sei te che devi credere in te stesso. Grazie a tutti.